Noi quando abbiamo iniziato il progetto era nell'ottica di interrogare Venezia nel ambito della smart city, dunque capire come Venezia potrebbe essere una città intelligente gestendo meglio la sua mobilità pedonale e dunque siamo andati a cercare a come aiutare Venezia a usare la tecnologia tramite i sensori per capire meglio il suo territorio a livello di gestione dei flussi e dunque abbiamo combinato questa comprensione del territorio tramite un strumento digitale al capitale umano interrogando direttamente nel suo spazio gli utenti sia turisti che cittadini in modo tale di capire la loro esperienza attuale e testare, sperimentare in loco delle soluzioni riguardo alla segnaletica e all'orientamento per capire le loro reazioni ad aggiustare in modo adatto. Il beneficio sono stati che abbiamo potuto instaurare una metodologia facendo un progetto pilota nella zona stazione e che questa metodologia che permetterebbe alla città di poter replicare l'esperienza in altre zone in modo tale di gestire al meglio il suo territorio.